che le persone si perché adesso come funziona noi quando avvieremo il gioco poi voi farete vedere lo schermo certo certo la gente può entrare prima quando avvia una partita potete mostrare lo schermo e quindi non mostro lo schermo non lo sto mostrando cosa devo fare non devo far vedere quindi potete gioca pure voi ma che si era performance effettivamente discreta possiamo dire allora allora ragazzi se volete giocare con noi basta che andate su jack box e poi mettete il codice una sub il codice ragazzi io faccio pure senza sub io faccio pure il codice è una foto mia grazie se fate una sabbido il codice è metà il numero di telefono di poldo aspettate adesso lo prendo lo prendo siete pronti ragazzi non ha regalato una sabb è finita usci e te russi e allora ragazzi il telefono per allora ragazzi io non vi do il numero di poldo ma guardate bene il riflesso dei miei occhiali siete pronti guarda che in america hanno trovato l'altezza di un di uno streamer vedendo una cosa lo so è stato molto bello quello che vuol dire sta cosa non lo sai no c'è uno ha mostrato una tastiera in live e non so per me ma hanno scoperto lui quant'era alto face tutte le proporzioni con la porta dietro eccetera ma verona non c'è ragazzi scusate jack box non c'è per iphone ragazzi io ho bisogno di fare del gaming lo volete capire che mi sto per tagliare le vene ragazzi sono solo sono in live anch'io ciao a tutti ciao ciao ragazzi allora ragazzi allora succede adesso io faccio la stanza non dobbiamo mostrare il codice adesso ok ok va bene fare codice adesso avviso potete partecipare anche voi assieme c'è ma incredibile ragazzi possono giocare tutti insieme ma non lo stai vendendo jack box gioca e basta ma devo mettere il codice se mi volete sponsorizzare cristo caccia l'arcadia dai bro dammi stu cazzo e codice voglio adesso adesso te lo dice comunque questo come ti abbiamo fatto entrare in arcadia ti facciamo uscire quindi veloce non funziona così allora come primo gioco in ordine iniziamo da qui flash va bene papà dammi sto codice forza adesso dovete andare su jack box punto tv jack box punto tv ma è un canale youtube è come fa vj io sono entrato guarda che mi metto io codice stanza allora di cappa di 4 3 1 6 quando possiamo far vedere il codice ti mando il numero di telefono di ruido in io il capo perché sei il capo dei paguri io ho scelto il mio personaggio la partita sta per iniziale iniziale che è stato il coglione chi è stato il coglione ho fatto nulla io non ho fatto nulla che c'è ragazzi io non ho ancora che la vista fatta quindi hanno visto degli occhiali di coso non lo so non è possibile che l'hanno visto dai miei occhiali davvero io non ho fatto nulla francia puoi uscire senza che si fai rifare la loro è un sacco simpatico poi non bloccare cinque live in una e uscire francia guarda becchio il tuo indirizzi ip fai attenzione io non so io non so chi sia francia io davvero non ho mai sentito nessun francia nella mia vita davvero è stato davvero no ragazzi è stato sedia perché detto le tre lettere e uno ha iniziato a mettere le altri il problema è che guarda un fuoco a posto è tratto per lo scuola direi facciamo una lobby rifaccia l'aria valla io non c'entro niente io non c'entro niente perché seguite no no non c'entro davvero non c'entro ok allora ragazzi vabbè mi tolgo gli occhiali allora così non vedete il riflessio puoi leggerlo se puoi scriverlo senza leggerlo ad alta voce va bene ci provo ok allora io comunque sono sicuro che sia stato chiuso ok ok è sicuramente stato sedia ragazzi allora ragazzi sicurissimo allora ragazzi è prima che entra con qualcun altro due uno via il game ora possiamo cambiare? ci siamo no posso aprire posso far vedere la chat penso di sì ora si ma c'è il codice inoltre a destra è perché non entrano come pubblico ragazzi come potete vedere questa volta non ho liccato il codice ragazzi ascoltiamo sono Gervaso Gerry Gergelli oh è Giorgi Scotti ma che caso non sono imparentato con i Gergelli che vivono in fondo alla vostra via va bene grazie per la battuta di merda wow quanto lo odio non me lo ricordavo tuffati in mezzo al pubblico e vendicati entrate tuffati in mezzo alle palle allora gamers it's fucking time mettete il codice lì jackbox.tv eccetera 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 l'hai rischiata Francio l'hai rischiata forte sì ragazzi però sta spiegando il gioco ma sì ma tanto è facile non ho capito me lo rispiegate? ah sì troppo tardi nooo in base alla percentuale di votanti a cui è piaciuta la vostra risposta ma certo chiaro? sì sì capito certo certo il pubblico può votare ragazzi questo è il vostro ruolo sì no ma in realtà nel gioco votiamo noi il pubblico è in più allora ragazzi allora ok vi dirò una cosa che non dovete leggere quindi mi raccomando non leggete ad altamente ok esatto se facessero ah allora allora ci sono ragazzi ci sono arriva datemi un attimo devo pensare è il momento del gaming allora come siamo divertenti io ho già inviato ah ma sono due ok sono due sono due sono due allora no io sto scrivendo delle cose terribilmente bannabili allora ehm ok ci sono a posto io ho messo le mie risposte ma io quindi alla chat non posso fare vedere la schermata dove scrivo sarebbe meglio di no ok e nemmeno lo devo dire a posto ok ok io le ho messe io le ho messe le mie io le ho messe anch'io le ho messe anch'io vai 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 allora 40 centi nel pubblico iniziamo madonna allora gamers it's time zitti se facessero una candela apposta per te avrebbe il profumo di merda vabbè ragazzi qua mani in basse mi dispiace quella puttanata a destra mi dispiace ragazzi mi raccomando votate votate bene votate perché il voto è un vero civico yeeey let's go baby leo questa volta non hai fatto una performance discreta come mi finta dal pubblico media media 4 e 20 coglione fumati una canna stupido che mi permetta di presentarle il cavaliere più disgustoso del reale ah ma posso votare anch'io? si certo come? come si vota? il misterio non è divertente e la reputo anche molto infatti non mi chiamo mauro non mi chiamo mauro ma perchè si vuole dato il nome di sedia? non si deve sapere non mi chiamo mauro stupidi mauro da gamer era la più bella effettivamente nooo siiii sono il gamer madonna che tritamento va bene complimenti complimenti tritamento di palle oddio oddio vediamo no ragazzi non è possibile ahahahahahahahahah l'avrei scritta anch'io te lo giuro bro io e te siamo una cosa sola eh qual'è il trucco per stare svegli tutta la notte? zooplanet? minchia questa è la relay da bollevo vero? mamma mia non so chi l'abbia scritta ma io mi sa che voterò per la prima io ho votato per la prima io non ho votato perchè hai messo ding? che vuol dire ding? che cos'è? il campanellino è effetto solo che metti sempre l'iccio si è vero bro dai come f**to a non votarla stronzo e mi sono ci vuole troppo tempo no ragazze l'ario sgravato sono arrabbiata a stumble guys non mi hanno fatto ridere stumble guys non sono arrabbiata a stumble guys nooo io che avrei avuto il voto di sposo io scusate stumble guys è bellissimo eberald ci spiace è il mio soprannome ragazzi cosa? tu sei stumble guys eberald non fai più parte della live in quanto è poco divertente mi spiace nooo silenzio hai perso i tuoi privilegi è finito il round ok vai minchia fra ma abbiamo ma abbiamo ma abbiamo fatto la stessa risposta no perchè sedia il secondo round è qui ok ok it's time guys it's time it's time smorbing time allora allora squirp se lascia ehm mmm ha 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 Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho, statevi calmi, guys Vai, fatto, fatto Allora, sono stupide, sono stupide, forte Però possiamo fare qualcosa Forse con una di queste Qualcosina posso fare Io forse qualcosa in più pura Ragazzi, lo vedete dopo che cosa mettiamo? Lo so che siete curiosi Esatto Ma gli altri si stanno impegnando tantissimo Sì, io sì, io devo vincere Tu devi capire che Cristo ha proprio il poster E divertirsi Vincere e divertirsi Se necessario, usate una frase di sicurezza Grazie Mamma mia Chat, quando mi vedete fare l'occhiolino Perché dovete votare quella lì che è mia Non lo dirò a voce alta Non vale, non vale Non vale Oh, non mi sono mutato, scusate Oh Oddio Allora, io credo che quella sinistra avrebbe vinto in qualsiasi round A prescindere Allora, le ho voto in più ragazzi No Scrivi di toilet Ma non è più in tendenza Scrivi di toilet È vero Oh no Una dedica sincera Che ti farebbe passare subito la voglia di leggere il libro Ok Scusa, domanda Sul libro c'è una dedica che dice Sei la Bibbia Esatto Cioè, c'è scritto sul libro Sei la Bibbia Non ho capito Non ho capito Non sapevo come rispondere Ma ha preso pure due punti Ma funziona il contrario Cioè, devi mettere quella che vuoi votare out No, devi votare quella che ti piace Ma quella a destra non ha senso Cioè, è bellissima ma non è contesto avanzato Invece a me piace Quindi la foto Ma non ha senso Grazie ragazzi Bravo, Sergio No, ma perché Grazie mille, ragazzi Grazie mille Grazie mille Ma non aveva senso Ma certo che aveva senso Il meccanico ti vuole fregare Allora, capito È il pubblico E lì è tutto loro Noi non valeva un cazzo Avrebbe fatto meglio A costruirsi una casetta di Di merda Ma fanno entrambi cagare Voterò Lego su Fortnite Solo perché mi fa più ridere La parola Fortnite Lo sapevo Lo sapevo A me fa ritenanzare Oh Stupidi Fortnite player Siamo proprio noi Ebbene È la propria che vici Albero buto Ragazzi Ci vogliamo stare calmi Per favore È solo un gioco No, io so dove abita Oh no Non c'è nessuno No, no Non lo voglio sapere No Chi è che ha messo questa? Sono terribili Dai, Roma è butta, ragazzi Io metto Yohoo Anch'io Anch'io Ragazzi Cono doveva mettere Tipo Ma quando è che tolgono Quella cosa che galleggia? Immaginavo la fontana di Roma Che è improvvisamente A mezzanotte fa Yohoo Io non sapevo Però come la vendi È meglio Bastardi come avete votato Non devo prendere voti In questa Bellissimo Ho ruttato, ragazzi Oddio No Ma come la seconda è terribile È molto rutta Bello, bello Performance discreta, direi Vai Forza Io sono sempre No, qua vado in terza Quarta posizione Madonna di Cristo È ancora ultimo Peppere Peppere Ma sono Omofobo Cosa hai detto? No, nel senso che sono ultimo Che vuol dire? Risposte Separate Madonna Madonna I giocatori sono dispari Quindi Dovrai affrontare me Pazzesco Ma dai Ma perché? Vieni Puoi vincere Ce la puoi fare Che vuol dire questo round Non l'ho capito Allora Ma che schifo Quindi sarò l'unico Che metterà qualcosa di divertente Rispetto a quell'altro No, non c'è Ah, ok Allora Ce l'ho ragazzi Datemi un attimo Ce l'ho Scusate Mi dispiace È che mi è uscita così diretta Non ci ho dovuto pensare È stata immediata Ragazzi Sto gioco estremamente caotico È il mio gioco Mi piace tantissimo Ok, sì Vai Mi faccio bannare No, è fantastico Tra l'altro Non so che domanda avevate voi Ma la mia faceva Vomita Ma è un po' schifo nel senso di Eh ma non so come Cioè Battuta sessuale Ecco Mamma mia Mamma mia La mia Sessuale Sì Assolutamente Allora io devo fare l'ultima Queste due sono difficili Aspetta Tu eri Avevi anche quella dell'asilo Giusto Avevo quella dell'asilo Anche te giusto No Allora neanche io Sessuale poi No, no, no Ma ti pare No, ma la mia non era sessuale Assolutamente Però cosa hai scritto L'ultima l'ho un po' improvvisata raga Tre cose che sono successe Alla fiera dell'est Ma non sono finite Nella canzone No, no, no Questa è bellissima Sono gay Bella Gianda Francesco Sole Ma che è Ok Quella sinistra Quella sinistra È estremamente inutile Quella a destra è bellissima Allora io spero Che quella sinistra Sia sedia Che perde Contro il bot Mamma mia Ti immagini Se il bot è scritto Sia che perde col bot Ma io non avevo capito Che bisognava mettere Ma come no Sia che sta perdendo Contro il bot Veramente Sia che perde contro il bot Ragazzi Mamma mia Sia che perde contro il bot Sia che perde contro il bot Sia che deve mettere Non avevo capito A lui ha scritto Metti delle cose che vengono dopo Io pensavo Qualcosa che facesse lì Ma ho pensato Gli allenatori migliori Non permettono mai Che i loro cavalli Vado è schifo Siano insetti Stecco click clack Usino il trend Abbiano solo tre zampe Sono loro madre Quella a destra No Quella sinistra La voterò solo Perché c'è scritto Solo l'insetto Stecco click clack Io non voto per ripicca Che vado è perso Che vado è perso Stronzo Che falle Qua non puoi citare Stronzo Eh Io non savo che scrivere E invece si posso Siete pronti? Però Inzetto stecco click clack Fatemi subito prendere La mia rubrica Che poi ora abbiamo Punchline Siamo in set di stecco Click clack Wow Distrutto la perata La dovete La devi smettere Non votare A me lo sono Non trovato Di palestrati Comunque Una bella orgia Ma che cosa? No No ragazzi La prima è Supendo La prima è Incredibile La prima è Devastante Aldo Giovanni E Giacomo Non fa ridere Ma sì che fa ridere Fa schiattare È perfetta No È perfetta È perfetta Io avrei scritto Io avrei scritto Giovanni Giacomo Poi Aldo E tra parentesi Piccolo Moro No Non si può Scrivere Piccolo Non penso Sì si si può Si può Si può Ah guarda che stupido Ha detto Che brutta Quella No Non mi piace Aldo Giovanni E Giacomo Però la mia risposta Era discreta Ma stante Fate schifo Comunque Ma meglio Dei bot Ma io non avevo Capito come funzionava Ma non avevo capito Come funzionava Tranquillo No Mi torba M***a 10.000 Ragazzi No la merda In mano Che schifo Era l'ultimo Ha vinto Poldo così Ha vinto Poldo Wow Ragazzi Questa è una bellissima Comunque Sono I boss Di catania Ragazzi Si chiama Ma ho fatto Una performance Discretissima Abbiamo finito il gioco Di già Ma mancano Di Ragazzi È stato un piacere Ci vediamo Alla prossima Ragazzi Ci sono Tantissimi Giocchi Ciao Ragazzi Ci vediamo Sì Allora Quindi Non devo far vedere Non devo far vedere Adesso Vi voglio fare una domanda Volete fare Un gioco Molto figo O andiamo in ordine In ordine In ordine Facciamo il content In ordine Così Quello è l'ultimo Quello figo È l'ultimo Esatto Bravo Quello figo Si arriverà dopo Adesso giochiamo A TKO Vai Che cos'è Non lo mostro Non lo mostro Lo toglie Un cazzo di francio Ti sparo Questo è un po' più complicato Entrate Ok Ok Allora Come è più complicato È difficilissimo Madonna Ok ci sono Ci sono Ci siamo tutti Ok ci siamo tutti Vai Start a start La vittoria Leo sei tu lost Start a start a Leo Ok Arriva chat Arriva Eccolo qua Ora possiamo Cagliare Eccoci qua Sì Let's go Ascoltate Che complesso Codice nuovo ragazze Per rientrare Silenzio 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 In alto a destra Io sono il maestro Del torneo Se qualcuno sa Come togliere Le macchie Di vino rosso Da un panno Cerimoniale Ma è Pietro Baldi Per favore Me lo scriva In privato Ok Ok Ma allora Ma dalla tribù Parzialmente consenzienti Magari Quella che creerete Oggi Diventerà Il nuovo cult Del decennio Chi può dirlo Ma Che è sta minchiata È Pietro Baldi Lo so È bellissimo Per quello La grafica È incredibile Allora Questa frase Pericolosa Per noi No Tutto Quello che poi Ragazzi Niente Sbastiche Cristo Tutto No Quelle no Va bene Ma dove dobbiamo disegnare Lì? Ah ce l'ho io Oh aspetta 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 Ci sono Cosa devo disegnare? Qualcuno che vuoi Libera fantasia Quanti secondi abbiamo? No No ragazzi Io non so disegnare Tranquillo Neanch'io Allora Sto disegnando Io posso avere uno spondo diverso Bianco non si può avere lo spondo Sì sì Devi selezionare dal basso lo spondo Ma non c'è me bianco Eh no Allora ti Ti fok Vabbè Ok ok Ragazzi sto disegnando Datemi un attimo Chat Per favore Anch'io sto disegnando Anch'io sto disegnando Anch'io Anch'io ragazzi Anch'io Stiamo tutti disegnando Wow Che attività di gruppo Ok Io ho disegnato Io pure sto disegnando Sono il disegnatore Ci siamo Un attimo Ok così Dammi questo Dammi questo Dammi così Vai fatto Quanto manca 18 secondi Ma vaffan Io sono Ragazzi Io penso che Questa grafica Sarà la mia grafica Delle mie nuove magliette Non è lì Solo per bellezza Non so che si possono comprare Fini game Oh no Fatto Vai vai Merda Ma perché io sono La mia grafica Capisco dove voleva andare a parare Stavolta però Voglio vedere più colori Sono Lento Ma di Ciao Ma che cavolo Sono tutto il mio intelletto adesso Ragazzi Chatteli tutte le live Se volete Entrare come pubblico Dovete andare su Jackbox.tv E scrivere No S Leggete in alto a destra Perché anche qua Ci sono molti voti Dopo Allora Ci siamo raga Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ok così Guardami ragazzi Se non parlo Ma sto disegnando Sì ma qui ragazzi Vince Leo Comunque Sì perché sa disegnare Col mouse È tipo Il disegnare col mouse È una delle mie abilità strane No ragazzi Una merda No Come si torna indietro C'è il tasto C'è il tasto 20 secondi Vabbè La claccio La claccio Ma non si possono usare altri colori Non si può fare niente Vabbè Suggerimento Che è Un gioco della tua infanzia Ma che cosa sta dicendo Il tempo stringe Sbrigatevi a finire Perfetto Ho dove è il mio meglio ragazzi Ok grazie Questo è uscito meglio Non posso già disegnare le cose divertenti Sì teoricamente sì No Dobbiamo anche il terzo Oh regalo Non ce la faccio più Boh È l'ultimo disegno Ok Questo qua lo prendo Su sfondo blu Ehm Allora Questo lo facciamo così Anzi no Facciamolo così va Allora No ho sbagliato Palle Questo volevo fare Ok Ok Quanto manca? Poco 45 secondi Vabbè dai Sfattibile Fattibile Ok Così Ok Disegnato Mi dà fastidio che non c'è lo strumento riempi Madonna che fastidio sta cosa infatti Il tempo sta per scadere Cercate di finire Ci sto provando Ci sto provando Un attimo Pietro Pietro sto finendo Un attimo 3 2 1 Cazzo Fatto Vabbè Quello che è andata È andata Dai 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 Ci siamo Ce l'ho Ce l'ho Dai Ragazzi Le mie non fanno ridere Cioè io Avete fatto bene Una frase Dovete scrivere Una frase Di qualsiasi tipo In realtà Le potete scrivere Infinite Però vabbè Scrivi qualcosa di divertente Intelligente O quello che vuoi Voglio tre o quattro slogan a testa Pensate di farci Ne ho quattro Non so Tre o quattro Ne potete scrivere quanti ne volete Ah ok ok Poi Non so quante scriverne Sinceramente Noi ho scritte quattro Le sto facendo cinque No Abbiamo scritto Tanto tre Rega Non so che mettere Va bene Va bene Va bene Va bene 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 Vai Vediamo Farà schifo Farà schifo Sì 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 Non sarà totalmente Schifo Non farà ridere Ragazzi No io sono pieno di tutto quello che faccio Io mi chiamo Giuseppe Non voglio mettervi pressione Io sono No mi hai messo pressione Pietro Baldos Adesso dovete abbinare una maglietta E una frase No io ce l'ho quella perfetta Ok Adesso inizia la battaglia Ok Quindi quello che ho disegnato Non lo uso io Ragazzi non ci ho capito un cazzo Nemmeno io Ok No Dovete montare tutti Dovevamo montare tutti Ok Effettivamente ieri sera Io sedia e Leo Abbiamo giocato a Fortnite Questo non c'era Che mi hai sbagliato Scusa Cazzo No Wow Sì Ma come ha fatto a vincere quella a destra Ma perché Ma perché Poi la ruota Io la volevo Io la volevo Il disegno l'ho fatto io Fottrinit Vediamo È il mio disegno È il mio disegno Quello del gattino È molto bello effettivamente Ragazzi Ragazzi è bello mia No Bella sta maglietta Sì che la comprerei Anch'io No Io però vado qui di questa Ha vinto Ha vinto Eh vabbè regà Dai Dai Era perfetto Oh no Non si fa Not funny Spoiler Quella a destra L'ho accoppiata io Bellissimo ragazzi Ma io la volevo Era bellissimo Vediamo Oh cazzo Mi dispiace È meglio quella nera È meglio quella nera Sì 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 Mi dispiace Freddy Fazbear Che ti dice È viva le femmine È viva le femmine Ah io Allora io Ho scritto È viva le femmine Non so che ha fatto Freddy Fazbear Io ho fatto Freddy Fazbear Ora si vede Ora si vede Che ha fatto la combo No Perché io quando Ho fatto la combo Io quando Ho fatto io È viva le femmine No è viva le femmine L'ho scritto io bro Sì no L'hai copiato tu Ok Vodo ragazzi La mia accoppiata Cattivissima ha vinto Mamma mia Ma non finisce qui Ma quindi erano Di segni No gli altri disegni Erano terribili Io non li voglio rivedere No Ora dobbiamo dire altre frasi Ma scuola è quelli di prima Ma quelli di prima No ragazzi Ma ancora Dio santo Ok sto facendo una sbastica raga Ve lo sto dicendo No bro fermo Io ci ho già giocato Adesso facciamo un disegno E ci mette anche quelli vecchi I migliori vecchi E le combinazioni anche di prima Quindi fa un munione di tutto Va bene Ragazzi disegnare un cazzo realistico No no dai Non va bene No non penso polvo Ok Io ne sto rifacendo uno che ho fatto prima Che non è venuto Non era venuto bene Scusate Ragazzi sto rifacendo un disegno Che ho fatto prima Che non è uscito Non era mio L'ho appena detto io Non è mio Non è mio Ok vai Perfetto Ok ce l'ho ce l'ho ce l'ho Quanto manca? 19 Adesso faccio la seconda torre Ancora pochi secondi Ci manca Leo? Io Vai Manca anche sedia Ce l'ho Vai vai Ok ok ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Scrivete Scriviamo? Sì Dobbiamo scrivere altre frasi? Sì Però valgono anche quelle di prima Allora Allora No basta Non so Non so che quante scriverne Sinceramente Ok ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Vediamo chat Vediamo Non disegno un cazzo raga Comunque Vabbè niente Qualche nuova t-shirt No ragazzi devastante Ma perché ci sono così tanti Charmander? Mi scusa se mi piace Io la migliore Io ce l'ho L'ho fatta Eh che l'abbia Molto bella Eh ragazzi No hai ragione Cookie Poi lo cambiamo Verrò denunciato io ragazzi Sì 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 avete ragione raga Che M verrà denunciato Ma le mie non fanno ridere ragazzi Fanno il godo Grazie mille del time Ciao bellissimo Ma che vuol dire Oh Tra l'altro citato a scoprire Gristro Votare Ho cacare Ma non avevo Che schifo Che schifo Che schifo Allora ragazzi Devo dirvi che quando l'ho disegnato Mi sono autoschifato Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Grazie bro Grazie infinite Mamma mia Avevo L'altra era Una maglietta Di Bazinga Z Con questo disco Ragazzi io della combo Perfetta Vediamo Vediamo Bazinga Z Allora Nonostante tutto Sono sicuro Che la F Non sia scritta In ciccio gamer Infatti Infatti ragazzi Ma cos'è Bazinga Z Bazinga Si dice Vabbè Quella Quella Merda Cristo Addio Bazinga Bravi Tradite E tradite Cristo Traditelo No Ma Fatti Con le palle Bellissimo Fortnite Ma poi uscivano dal collo Le palle Era perfetto Oddio No ragazzi È meglio Facebook Posso dire che hai fatto molto bene Come cazzo Non l'avete fatto a fare Come avete fatto a fare Il riempimento Con la mano Madonna bro Cioè Buonanotte Con la moglie Io ho palle Ma cosa Mi piace tanto Salvedere Come puoi aver vinto palle Incredibile E però è bellissima effettivamente Palle Sì sì ma è molto carino Charmander in quel modo Palle Eh mi sa che perdi Vediamo Let's go E niente Ragazzi Sì venerdì Siamo in lago Foggia La commo Non so di chi Eh no Il disegno L'ho fatto io Il disegno L'ho fatto io La quarta volta Che vedo una falce Un martello Santo Dio Bellissime Bellissime Bella Bella Bellissime No ancora Non ce la faccio più Oh cazzo Termine qui Ah è finito È finito? No Allora Questa è incredibile Cazzo Mi spiace Vado per I love foggia Perché è bella Io vado per Pandora Il problema è che Allo foggia l'ho messo io Quindi sto combattendo Contro me stessa Maglietta di Foggia Infatti Fuggia Si dice Sì Ah scusa Fuggia Eh no Mi spiace ma Cazzo Quella commo è devastante I love foggia Davide grazie mille Per la Saba I love foggia Ho vinto il gioco? No Sei mesi bro Grazie Grazie infinite No No Le palle Mi dispiace Io vado per le palle Io vado per le palle Che schifo Che schifo Che schifo I love foggia sta perdendo potere Perché è liberato Le palle le ho disegnate io I love foggia Sì ma faccio il martello Non lo so un po' stereotipato Non mi piace Era terribile No ragazzi è stato divertente È stato divertente Ah vuoi effettivamente Comprare veramente la maglietta? Sì Tu la puoi comprare se vuoi Ah Ma che cazzo è schifo Ti fanno creare il merce E te lo compri? Sì Geniale C'è qualcuno che poi ti stamperà Faccia il martello Ho scritto I love foggia Chissà che avranno disegnato Nel prossimo Games Week Chi lo fa un pugno in faccia Ragazzi Metto un link Per comprare I love foggia in chat Allora ragazzi Facciamo il gioco bello Facciamo il gioco bello Facciamo il gioco bello Finalmente Il gioco bello È arrivato il gioco bello Allora adesso c'è Il gioco bello E il gioco ancora più bello Il gioco più bello di tutti Quello più bello Bene allora devo un attimo Uscire dal gioco Questo Cosa? Ah davvero? Perché devo usare L'altro pack Va bene Ok Ok Perché io ho Jackbox Party Starter Jackbox Ok Mi disse Ciao Lui lo sa Allora ragazzi Dovete sapere Dovete sapere che Cristo oltre a essere Il CEO di Discord E anche il CEO Di Jackbox Party Quindi Perché è un gioco Che sei giocato in modo offensivo E divertente Certo esatto Certo Certo E infatti Ed eccoci qua su Twitch A mitigare le cose Mettendo un bazinga Al posto di una spastica Corretto Allora ragazzi Adesso non mostrate lo schermo Ok Va bene E dico solo che in questo gioco Noi dobbiamo essere cattivi L'uno verso l'altro Oh mi piace Oh ragazzi Si chiama Prepariamoci Prepariamoci al video Di Emerald Bullizzato Sedia Si Non mostrate lo schermo Adesso Ok Ottima battuta Ok chat Possiamo entrare Possiamo fare Che devo fare Si Come sempre Ah il codice Non l'avevo visto E' enorme E potete mettere uno slogan Personalizzato Mettetelo Che divertente Ok Dov'è lo slogan personalizzato Dopo che metti Il pronome Ehm Si Il pronome Addirittura Pensa come siamo avanti Che senso scegliere un dettaglio Sul tuo personaggio Beh No Ecco Quello è il tuo slogan C'è lì in basso Puoi mettere quello che vuoi Ok No Non l'ho messo Lo slogan Ma che troia Ragazzi E' tutto il gioco Questo No Allora facciamo una cosa Rifaccio la lobby Eh si Perché Perché Dovevo prima selezionare Quello sopra E poi No Allora dovete mettere Il nome Il pronome Avanti E poi sotto Mettete lo slogan Io ho fatto vedere il codice Quindi rifai e basta Ma porca troia Eh infatti Ma l'ho fatto vedere Dopo che hai detto Che la rifacevi Dai che stupido Wow Wow Poldo Sei veramente Un insetto stecco Insetto Stecco Zitto Oppure Vengo nel tuo zoo E ti ammazzi i varani Non farlo Stato Non siamo morendi da soli Ok ci siamo Ci siamo Perfetto Ok Ok Allora quindi Il primo è il nome Sì Poi fai Usa questo E cioè Scegli un dettaglio Sul tuo personaggio Non mettere i primi tre Metti quello che c'è sotto E puoi scegliere quello che vuoi Perfetto E poi tu devi interpretare Il personaggio che scrivi lì Vabbè Fatto Devo interpretarlo Va bene Quindi è tipo roleplay No ragazzi No l'ho cambiato Cosa hai scritto Io ho scritto una cosa un po' Che cazzo Vabbè dai Lo posso Bisogna andare lo stesso Sì sì Vabbè Io non ho capito cosa dovevo scrivere Però ho scritto una cosa a caso Vabbè Allora abbiamo Mostrato lo schermo Ah ok Ok Ascoltate Ascoltate Dove cerchi di fare punti Senza che ti mostri In una porta Gioele non spammare Figlio cane Gioele Sei un figlio di Cioè Bello sto scritto Comunque Madonna che brutta C'è la rule 34 No ragazzi Entrate nella bandita Con un dettaglio suo di voi Che avete scelto nella lobby Sì Se non l'avete fatto L'ho scelto io per voi Questo è il ruolo Che interpreterete No io ho scritto Tella cosa Terrete Va bene Vorrei tu lo fossi però Ragazzi il codice Quello in alto a sinistra Credo Credo di sì Allora ragazzi Se non vedete il codice Questo Ragazzi Presentazione di tutti Eccoci Io giochi di prezioni Ok No Per fare una discreta Io non Ma quello è Leo davvero Ok Wow si è sudato Scusate Grazie Grazie Ok Si Ok Sembra noiosissimo No ragazzi È un bordello Vediamo Vediamo NSV I ragazzi NSV I NSFV Prima round Le presentazioni Ma allora Vediamo che cosa fa Ok No le domande Del curriculum Vite Ma devo farla quindi Inerente al mio Coso Deve essere divertente Ok No ragazzi Ma che Allora ragazzi Che università Hai frequentato E Quali Quale era La tua specializzazione Fatto A chi lasceresti fare Da babysitter A tua nipote No ho sbagliato Mannaggia Le palle Scusate Ma che palle Perché se Premi Il pubblico Perché se Premi Il pubblico Ah qua sotto Ci sono delle domande Ragazzi Se le domande In senso Devo dare Potete votare Se siete Ragazzi Io ho sbagliato Premuto Vabbè Sbaglio Sempre Io prima Farò totalmente Roleplay Ok Beh È vero È vero Ragazzi Cerco di rimanere Roleplay Ok Questa non era bella Vergognati Vaffanculo Sbagliato Che schifo No che stupido Sei una patata Tra l'altro Wow Poldo Ma poi l'ho messo Tutto in caps Io scrivo le poesie Perfetto Allora Grazie ragazzi Oh grazie Mi piaceva Mamma mia Minchia Minchia Cinque punti Sono gay Quiterloll Grazie Quattro mesi Sono gay No Sei un gay malvagio Sono gay malvagio Figa Esistono i gay malvagi No Oh no 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 Dovete votare La risposta peggiore Filetevi di me Giocatore che hai votato Viene eliminato Gli rubi un punto That's very bad Va bene Come roba Votate Siete cattivi Siamo cattivi Fornisci un motivo Non trattenerti Ve l'avevo detto Che era cattivo questo Comunque domanda Il fatto che Sedia abbia la protezione È chiamato DDL Zan No 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 Dai che scemo Chiedo Chiedo Davvero Cori Mi piace Sei uno scemo Vai Oddio No Chi è? No Ma siete delle merda Ma fai culo Poldo Ma non sono polonese Sedia Ah ok Scusa Avevo sbagliato Sono di Ferrari È il bello Che ha detto Di voi due Ma non di quello Che ho scritto io Attenzione Ripetendo Copertura Lo uso Sì ma Leo Mi fa conoscere Fabi J È vero Fa culo No ma qui adesso Viene Espolso dalla nave Io non sono Bolognese Io non sono Bolognese Silenzio Silenzio No Chi sarà mai Una guarda del Ah capito La cosa Posso volare Chris Chris Odia i film horror Tipo FNAF Sono chiesto ragazzi Ma Chris Lo sapete la terza apposta Ma quante animazioni ci sono Legami No Legami Stesso Che cosa Stupida Di cosa parliamo Io e lui Allora Allora Ok Allora Devo farla Lore Fare la lore Tutti dormono Ci siete solo tu E una persona Davanti al falò No Forse l'ho usata un po' troppo Eh ho sbagliato Forse vabbè Eh io Vediamo Vediamo No No Esagerato Di cosa parla Oh con sedia Ma io potevi scegliere la persona No 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 Come me la diceva La pilla A me va bene Che stupido Che stupido Ma io sono un insetto Stacco No Eh eravamo vicino al fuoco della situazione geopolitica russo grano sesso gay ma ci stai provando con me parlava con creste ok la mia preferita mi piace che è iscritto anche serie e la pila 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 scrivi di toilet di odio va bene che palla può parlare più veloce la tizia io ho l'attenzione di scrivi di toilet perché ha vinto lo sceglie a caso se c'è un pregio grazie ragazzi buttiamolo fuori di nuovo la protezione ragazzi mi raccomando mi raccomando stiamo fuori crist no ragazzi chiudo il gioco io faccio giocare a minecraft chiudo il gioco se ne eliminate sono io questo gioco l'ho comprato io se ne eliminate io faccio bandare tutti gli strider qua dentro se ne eliminate ho io il gioco ah il pubblico che elimina ah il pubblico no è finito mi sa ragazzi che il gioco è finito qua arrivederci ragazzi ragazzi non votate perché non votatelo perché se non otteniamo il gioco non possiamo più giocare votatelo in caso perché siamo tutti spaventati tra le sedia che ancora la faccia da chad è perché io sono protetto perché lui sono una minoranza quindi sono protetto la mia chat ha votato a me ragazzo ragazzi scopriamo 310 voti come poter eliminazione momento no non rifarmi quella boccuccia o che mi eccito non si poteva votare chat non si fa questa cosa veramente responsabile veramente degli responsabili wow ecco ragazzi fate l'auto della live grazie aspetta l'auto della live arrivederci ragazzi andatevenne tutti a fangulo fatevi la sub twitter quindi lui mentre cade adesso farà andatevenne mentre muore avevo votato poldo no rinasce no ragazzi ma chi cazzo è di nuovo questo è crusto ma lo puoi scegliere tu il nome non ha mai annullato programmi falso falsissimo falso ma non è lui è l'ammiraglio Cresto io lo so che cosa c'è sulla mia io l'ho messo la mia è piena va fino all'orlo proprio la mia è per cioè c'è sopra la cosa perfetta e la chat lo sa bene che cosa ci metto io so bene cosa ci metto sopra la torta ragazzi ragazzi se non vi ricordate streamer squirt ecco ragazzi non è vero la cialda di minchia questo io alle medie è incredibile ok va bene un classico questo no beppe vissicchio no anche il schnauzer non è vero non è vero che mi chiamo Mauro numero uno numero due non conosco tutta la loro describito quindi dobbiamo immaginarci la cialda con una torta con questa cosa sopra più o meno sì ok io ce l'ho quella rotonda con al centro giambi le mani incrociate ottieni la protezione e puoi scegliere anche una scegli me scegli me scegli me scegli me proteggerò cristo solo nooo nooo proteggerò cristo solamente perché non voglio che finisca la partita grazie ma sei una merda scusa bro se buttate fuori un gay potrebbero bannarci tutti è vero è vero è vero è vero cheers chat votata ah io non mi ricordo chi le ha scritte però vabbè dai non c'è bisogno di saperlo dai ragazzi mi dispiace un sacco però l'ha presa meme di buttare cristo fuori a priori ormai va seguito ogni volta che si socca a questo c'è una parola meme questa volta il meme uccidi cristo io vi odio con tutto il mio cuore puoi sapere chi è stato ma sono stati tutti tu puttana ahahahah il meme di nuovo il meme scusa bro suca l'utente sprezza odio tutti i pessima stream scusa 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 l'ho dovuto fare era per il meme oh non dice niente ha chiuso il gioco ha chiuso il gioco ragazzi ha risquittato st 증 духов l'utente e avomitmente no 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 no!!! non scriverlo non scriverlo scusa scusa Scusa, 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 non dire Napoli, 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 è stato buttato fuori del Maldeschi, non c'è lei in Napoli, ancora, ma che cazzo è, Krusto, 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 è arrivato Krusto, Krusto è bellissimo, Ok, diamo fuoco alla casa? Oh no Ma quando è che insultiamo gli altri? Serpe Io lo so chi Vabbè, l'unico che è arrabbiato adesso No, è brutto Leo non mi farebbe mai inciampare Sediano un po' perché abita a Foggia Emerald Oddio, Emerald una volta mi ha fatto inciampare davvero Ti ricordi, bro? Sì Mancava così poco Io avevo scritto una stupida, ti chiedo scusa Anche io Ah, chi è? Pure malvagio, Energia 1, disprezzante villano, ma ho detto che io non mi metteresti mai... Nooo, sono gay È vero No, vaffanculo, vaffanculo Non far ridere, non far ridere Ma non è vero Cioè, è vero che non faccio bene efficienza, però Visto? Oh no, no, no Nooo Cristo, sai chi ti è ucciso? No, non abito a Foggia, ragazzi, mi spiace Sul vostro dispositivo Io posso votare la mia Deve votare all'ultimo vai youtuber, altrimenti scompare per noi, quindi diamo casometto in un attimo Ah, ok Ah, ok, ok, diamo tempo Noi youtuber Non ho capito C'è chiudere youtuber Appena c'è chiudere youtuber su Twitch La ballata per sette anni Io sono il streamer Non ho capito quello che ha detto Appena noi votiamo, lasciate un po' più votare Ok, è chiaro Colpa del braccio L'allora è il fatto che io prendo in giro Che io prendo in giro poldo Perché una volta ha ricevuto un messaggio lunghissimo Sopra sotto il video di Pingu Da uno che si faceva molto il saccente E l'ho riuscito E l'ho riuscito E l'ho riuscito Vota Ho votato, state calmi Vediamo Sì, poi controllo, Gugi Ragazzi, mi sa che esplodo questa volta È stato un piacere Tranquillo Non preoccuparti No, ma come? Il palacio uomo No L'uomo palacio Grazie Crusto Crusto Porco di Madonna Il tuo voto Il nome è finito Il nome è finito Non si crede neanche tu Ecco il nome è finito Non ti voglio Bannate più Cristo Dai Stiamo per bannare Cristo Non Cristo Se ti ha scritto una frase Leo mi è piaciuta No, niente Se non è Che ha scritto una brutta frase Mi dispiace Però questa volta ti elimino Perché ti volevo eliminare davvero Ma non è Ma non è divertente No, una volta che ti ho selezionato non posso deselezionarti È finita No, scusa, potevo fare il meme No Lo puoi cambiare, stronzo Lo puoi cambiare Il meme, il meme Scrivete Siamo italiani Siamo italiani Possiamo votare Oh no È Cristo È Cristo Non ci posso credere Scusa, bro Leo, sono figli Buttala sedio Sedio Chiedi scusa a Berrofronzo Ma per cosa? Chiedi scusa a Berrofronzo Chiedigli scusa No, scusami Berro, non volevo Chiedi scusa Quello era l'IPD Cristo? Sì Scusa, Berrofronzo Scusa No, no È tipo Scusa, Berrofronzo È morto Chiedi scusa Berrofronzo No, ragazzi Non è possibile L'ingegnere Crusto No È Crusto 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 Non ha mai sentito parlare di golf Ce l'abbiamo fatto Crusto Ce l'abbiamo fatta La finale È la finale, boys La finale, ok Vai Minchia, bro Cristo Cresto Crusto Ma è un furry Cristo È vero che è un furry È un furry Round finale Ok, proviamo Ma stai zitto No Metti hashtag Addio Ci fanno la punta Come la bragni No, è stato hashtag Addi, ragazzi Hashtag addi Polizia Cosa ti ha spinto A comportarti Come hai fatto oggi? Madonna santa Cosa ti ha spinto A comportarti Come hai fatto oggi? Io so Con invio Non va capo Ma lo invia No Eh, io l'ho mandato a metà Vabbè Si fa tutto per il meme Mi dispiace Comunque ogni tanto mi muto Perché sparo con la pistola Ce l'ho Neanche Krillin Era facile La mia Era molto facile No Hai scritto Sono gay No No, no Ovviamente no Eh beh Non aspettarli più Sì, sì Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Vai, vediamo Ho dovuto fare il meme Il meme serve Bisogna 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 Ctfh Che cosa farebbe Crosto Vaffanze Questa è la cringe Slingissima Adesso ti butto fuori No, perché? Perché ho detto slay Sì, lo dicono solo le femmine No, io non ho la tua famiglia Ma io sono gay Ti hai chiamato mister pullback bar Chat, buttiamo fuori sedia No, perché? Ma quindi chi è la mia famiglia? Perché? Qua è chi dovrebbe vincere? Io No, come chi dovrebbe vincere? Io ho votato? Oh, cazzo Sìi Mi avete votato Cristo Oh, cazzo No, non ho votato Cristo No No L'unica volta che non volevo eliminarti Hai sbagliato il voto No, bastard in culo Non mi votate Oh no Solo perché sono gay? Perché? devo sbagliato cazzo boh così per il mana perché a chi mi chiede scusa io volevo buttare sedia per eliminarlo non per fare di buttare la sedia e chiesto scusa la fine signore e signori come al solito vincono le categorie protette è finita è finita così signori e signori di omosessual ragazzi se vogliamo fare ce n'è un ultimo molto bello e quello giusto è quello è quello è bello è bello lo vogliamo fare chat lo vogliamo fare o chiudiamo la live perché abbiamo terminato la nostra ora la nostra ora di giochi ora quest'altro gioco 15 minuti si fa dai dai ma perché chiuso la visione al mio io ho fatto una domanda non c'è non c'è da aprire mai non ci fare lì più ok ma il tono chiama subito al telefono al tono chiama subito subito che lo fate lo chiamo no non sta a milano a un concerto no che vero conoscendo le capacità di uscire dal concerto perché l'hai chiamato per chiederti cosa c'era no 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 ragazzi questo è dors di roblox ma siccome ha perso cristo deve essere rimosso dalla streaming congiunto ragazzi per favore ok ci siamo ragazzi adesso arriva adesso arriva adesso attivo io sono io sono io sono di amazing digital circus questo qua è un gioco mai molto bello ascoltate sentiamo io voglio cantare la canzone finale lo voglio rifare con after il codice ragazzi in basso cristo e sedia wow sono io incredibile papà numero uno what il pacciani un cuore ma cristo hanno fatto il mio face reveal sul gioco incredibile va bene sei brava parole ma come te la cavi a uccidere sono cagato addosso ma è among us chiaro io quanto cazzo mi pare ok ok cerca il tono da youtube kids non ho fatto scrivere mai perché stavo pensando solo a movimenti politici questo non lo so allora chi chiude aiuto la chat eliminato si infatti io non ho ma non è vero non ho fatto nulla ho risposto bene gole ora ascoltate se ok bellissimo l'obiettivo è provare a scrivere tutto ciò che vuole ok state zitti ok ah non è partito oh mi volevo solo rassicurare funziona correttamente i rumori vengono dai serpenti nei muri quelli velenosi fanno un chiesso assurdo tempo scaduto ragazzi devastante io sono arrivato a rassicurare vediamo io 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 fermo no tuca minchia ragazzi sono un pro gamer complimenti perché c'è la testa di testa di quella piccolina eh vabbè qua scrivevo velocissimo eliminati ma come eliminati ascolta però ascolta non sei proprio eliminato adesso te lo dice le mie palle è abongas è un pesce i giocatori morti sono comunque giocatori sono più trasparenti ah ok potete rinascere sono gay ok anch'io sedia lo sai bene non eri gay e sei morto oh no ok che dobbiamo fare non lo so andiamo avanti signore e signori benvenuti vai qual è il nome della nuova tonalità di blu inventata da Crayola ma che cazzo ne so io cazzo la so cavolo è facile no che blu è quel 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 non dovete dirlo se la sapete no no dai zia lo sono tutti i giornali ma io che ne so ma che merda ma dai oh cazzo io verso che nome di merda scusate quindi non siamo blu ti cool che merda sta merda shh facciamo girare questo dado ognuno può tirare il dado quanto vuole per aumentare il proprio punteggio edge ah blackjack blackjack si bello è vero proprio cringe bene ah quindi se noi ok tre porca puttana ragazzi che paura che cos'era il teschio eh i teschi no se noi ci esce il teschio aggiungiamo un punto a loro quindi dovrebbero contare i teschi no ha perso cazzo bello non faceva ridere no non è vero era una bella battuta stai zitto era molto bello eh vabbè questa è facile vediamo no aspetta facile facile ragazzi io non lo sapevo è un'arvicola su dai è un'arvicola chi impossible è l'altra tipa top waifu impossible ah e allora oddio cos'era un cresciuto un'arvicola è un cresciuto 3 2 1 chi ha scelto era una talpa nuta tu cazzo era la talpa nuta non ho mai visto che impossible eh si vede talpa senza pelo possiamo si vede no non sei gay che senso perché io devo votare gira la ruota girata ooo vabbè ma una percent ok ma è impossibile che minigame incredibilmente avvincente questo no è morto scrivi velocemente i dadi questo gira e vedi sei vivo o morto no è morto come is the one piece è rimasto solo leone quindi ora c'è il game finale è il game finale gaming ok manca poco ok cosa io non li ho mai visti ragazzi becca di questa non ho mai visto al doggio vanneggiato ma sarà tre uomini una gamba conosco solo quello metterò quello non me lo ricordo sinceramente se non sbaglio è io credo sia questo non era la vita è bella io credo sia questo no non è la vita è bella la vita è bella non è la vita è bella stupido no no cazzo quattro uomini una gamba tre uomini che stupido quattro tre uomini una gamba c'è il motivo se sono ancora l'unico vivo andiamo avanti andiamo avanti ma perché sei così bravo lo so la so questa è facile penso io vado a caso io pure un attimo vado per l'italiano medio non me la ricordo ragazzi l'ho sparato a caso anche io l'ho sparata guardate è in arrivo persi ed è quello di colore ed è un pezzo di merda ragazzi sono dal tonico allora mi sono sempre immaginato rosso io non muoio mai le mie palle si è spaventato ma solo io avevo la ruota del cazzo ragazzi deve giocare è figo questo va bene va bene vai ma perché gioco io se avevo fatto giusto le regole sono già sui dispositivi ho cliccato il terzo sono stupido ok ah non capivo ok no mi sono paralizzato regole perché bisogna seguire delle regole dare i nomi alle cose non è mica facile il tempo delle regole scapparà no no ragazzi non ho capito una sega no ragazzi è finito non ci credo è fortissimo ok come ha fatto a fare 12 ma è fortissimo ma è fortissimo è fortissimo è fortissimo ragazzi a me l'importante non morirò mai non morirò mai che non arrivo ultimo ma com'è il round finale è perché è rimasto solo Leo ah ah wow sei ancora in vita guarda che sei ancora in vita evadere però non sarà una passeggiata evadere eh Leo Leo scusa evadere è una passeggiata vabbè questa era facilissima ma noi adesso iniziamo anche noi ah ho capito eccoci qua pizza da merda arriviamo 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 ok che? prodotti caseari ma che vuol dire? dai qual'era la terza? ma io la terza non ce l'avevo perché? è perché no ah ok si recupera no non voglio essere uno ma sono anche più di uno ah eh sì 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 ah ma sono più di uno porca troia eh eh va bene ma voi potete prendere una più di meno vale eh stiamo arrivando pezzo di merda arriviamo ti tocchiamo i piedi che schifo zio non me li lavo da tre settimane isole del mediterraneo ok Puglia Puglia no non è la Puglia no ve l'avevo letto la chat scusate no 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 non lo so ok ok erano tutte erano tutte che cazzo Patmo lei deve spasare io non ho sbagliato una finora no let's go oh cazzo questa è la tesina di terza media ragazzi no ragazzi provo il Tkberf oh Dio Dio Cristo provo la provo questa qua l'ho provata a caso pure io mamma mia eh l'ho andata a caso no va bene va bene va bene merda stai privando Leonardo Prue allora cos'è colori realmente esistiti secondo ma che cazzo ne so io ma io manco io rega ma che cazzo è è il ciclo verde potrebbe essere qualsiasi cosa godo godo stai arrivando stai arrivando ma che cazzo ne so ok forse tre medaglie olimpioniche signori tre medaglie olimpioniche uno lo so l'altro lo so quello è forse l'ultimo ma sono sono quella sono 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 no Cristo sta perdendo no Cristo verrà mangiato dal buio oh let's go eh io lo so perché sono qualcuno ha detto Sandro sono io no mi sa che era era trappola questa Marissandro qualcuno ha detto Sandro no ho sbagliato uno oh super vivo super vivo ah perché non sono più due ok sono quasi fuori sono quasi fuori la scuola deve sbagliare deve sbagliare se vuoi oltrepassare quella barriera devi rispondere perfettamente a questa domanda Sandro va bene cazzo e ora c'è anche una perza opzione eh non lo so fuck non lo so ragazzi ma che è Shakespeare bisogna selezionare tutte le risposte corrette ma deve mettere ma deve mettere ma ci sia morti no canzoni dei dintro madonna che palle non li ascolti i gruppi brutti non lo so le sai dai fra le sai oddio non lo so che palle proprio questa le scuole vinto ha vinto Poldo porca mia i minili a casa i minili a casa Poldo di merda no Poldo ha vinto così the great jig in the sky ha uno degli assoli di tastiera più belli della storia della musica e Leo non la conosce non conosco più Floyd cazzo e vabbè Time è una delle loro canzoni ma le minchia Time allora adesso possiamo chiudere o fare il sequel ascolta la musica la musica è bellissima state zitti godiamocela possiamo fare il sequel se volete no aspetta aspetta sentite che bella la musica appena parte è bellissima sbagliato a scrivere una lettera importante sono un rocker è questo che è la colonna sono era giusta bella giusto è questa quella che c'è la musica bella raga io me ne vado ma io volevo ascoltare vabbè me ne ascolti dopo la live vaffanculo ragazzi è stato abbastanza piacevole devo dire la parte in cui ho vinto è quella che mi è piaciuta di più sinceramente grazie